Allora ci siamo per la partenza Si aprono le gabbie, partite Le cavalle del premio Sedan Donna Vanda è quella che parte più lentamente Si è messa comoda comoda in ultima posizione Anche davanti partono tranquillamente Alla fine spunta tra le cavalle Siu Rain Che in maniera nemmeno troppo convinta Si ritrova praticamente in testa Anche Blonde Queen è partita bene E se alla fine è sistemata proprio sulla tre quarti della battistrada In terza c'è Rusele Switi Che precede Leondina Ed ancora Ersilia, Eutropia e Donna Vanda Si sta andando veramente pianissimo In questa prima fase molto tattica Siu Rain sta portando a spasso le avversarie Blonde Queen che comunque rimane lì stabile a ruota in seconda C'è un'altra pariglia formata da Rusele Switi ed Ersilia Ed ancora all'interno Leondina in quinta posizione In sesta Con la giuba arancia e bianca c'è Eutropia Con la giuba verde e cappe rosso Troviamo Donna Vanda in fondo al gruppo Siamo arrivati praticamente al termine della retta opposta Non ci sono stati né cambi di ritmo né cambi di posizione Sempre Siu Rain a dettare andatura a piacimento Nei confronti di Blonde Queen Poi la grigia Rusele Switi che galoppa in terza posizione In quarta troviamo sempre Ersilia con la giuba blu La striscia bianca con il cap bianco Ed ancora l'altra giuba blu ma con gli inserti arancio È di Leondina Eutropia e Nonna Vanda A completare il quadro Delle partecipanti Si arriva in questo modo Indirittura d'arrivo Inevitabilmente L'andatura subirà un'accelerazione Da parte in particolare Proprio di Siu Rain Che sotto il pungolo di Blonde Queen Prova ad andare in progressione All'interno ha trovato un ottimo varco Rusele Switi Dall'esterno muovono anche Ersilia Che si trascina Nonna Vanda Rimasta un po' sul passo Leondina Anche Eutropia adesso prova ad aggiungersi alla lotta all'esterno di tutti La corsa si è improvvisamente sveltita Tipica corsa alla francese Allora Blonde Queen Che adesso va all'attacco di Rusele Switi Queste due che si staccano Ha cominciato la sua cavalcata Anche Nonna Vanda Al centro della pista Rusele Switi contro Blonde Queen C'è la minaccia incombente di Nonna Vanda Che adesso va ad aggredire le altre Ma intanto Blonde Queen e Rusele Switi hanno sempre reagito Blonde Queen contro Nonna Vanda Blonde Queen contro Nonna Vanda Che nel tratto conclusivo Giustizia alle rivali Nonna Vanda Da favorita E dopo il rientro Coglie una bella affermazione Sui 2200 metri Giuseppe Percegovici in sella Ma per avere la certezza Cubica ed inespugnabile Dobbiamo rivedere ovviamente lo stretto Perché Blonde Queen ha reagito tutta strada Insieme alla stessa Rusele Switi L'impressione dal nostro punto d'osservazione Che Nonna Vanda sia passato Direi che anche questa immagine certifica L'impressione live Una mezza lunghezza direi abbondante Per il numero 4 dello schieramento Vittoria numero 2 in carriera per la figlia di James Garfield Maglio Parruccini ai colori e al training Secondo posto per Blonde Queen E al terzo Rusele Switi 456 E l'ordine d'arrivo numerico della terza Da Capanelle Tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.